Buongiorno da Piercaro Lava, sono con Mauro Bressan, amministratore delegato del gruppo Amaga. Buongiorno Bressan. Buongiorno, buongiorno. Allora, nuovo servizio clienti e Astag ci mettiamo la faccia. Che cosa ci può dire in merito? Lunedì apriamo il nostro nuovo servizio clienti per contrastare la concorrenza dei nostri competitor perché abbiamo l'obiettivo con questo investimento di aumentare il numero di clienti di Arigas e di migliorare il fatturato di questa società del gruppo perché attraverso questo fatturato noi poi possiamo finanziare anche gli investimenti sulla rete idrica e tutto ciò che comporta l'attività del gruppo perché attraverso il gas, si sa, abbiamo i margini di guadagno maggiori rispetto alle altre utilities che forniamo. Ecco, ci sarà anche ovviamente un'organizzazione di vendita per quanto riguarda, composta da agenti, per presentare i vostri tariffi, i vostri prodotti. Esattamente, ci sarà un customer service che risponderà al telefono al cliente e fornirà, parlerà di nostri servizi forniti, ci sarà anche, come varia i servizi, ci sarà anche una rete commerciale che gli agenti, questo da settembre, puri mandatari, che girerà per poter promuovere la nostra offerta commerciale. Ecco, i problemi principali di Amaga erano le perdite in bilancio, la mancanza di flusso di cassa e la situazione dei crediti, diciamo, che era abbastanza preoccupante. Alla luce della sua operatività o comunque del 2014, quali sono i risultati? Vabbè, le cose sono migliorate, non siamo ancora fuori del pericolo da un punto di vista di liquidità, però le cose stanno migliorando gradualmente e progressivamente. Già il bilancio 2013 ha chiuso molto più positivamente del 2012 e continuiamo nel frattempo a portare a casa dei risultati in termini di liquidità, di recupero dei crediti, che è una cosa importantissima. Ovvio che abbiamo ancora uno stock del passato di 14 milioni di debiti accumulati negli anni e quindi la situazione non è ancora una situazione di erosea, non siamo ancora fuori pericolo, però ce la stiamo mettendo tutto in un processo di miglioramento. Ecco, e l'utile, quanto è stato l'utile? Superiore ai 4 milioni. Mentre invece l'anno precedente era una perdita. Era in perdita. E il flusso di cassa? Il flusso di cassa è stato di 6 milioni circa contro i 600 mila euro dell'anno precedente. Quindi, decisamente... Questo maggiore flusso di cassa ci ha permesso di pagare riva retrata, di far fronte a debiti anche verso lo Stato importanti. Ecco, diciamo che il gruppo Amaga, fra gas e acqua, ha circa 100 mila clienti, 94 mila per precisione, e ci sono però 5 mila clienti che presentano dei debiti in sostanza. Sì, ci sono un bel gruppo numeroso di clienti morosi sui quali stiamo effettuando una sollecitazione di pagamenti abbastanza importante, anche tramite studi legali. Ecco, quindi il credito da incassare complessivo è sceso dai 40 milioni erotti... A circa 30. A circa 30. Per cui direi che la strada è giusta. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie anche a lei, signor Davo. Grazie. Grazie.